Salve, qui siamo a Colle Valdelsen Toscana e il signor Lacchi ha assaggiato una specialità colligiana, che ne pensa? Che ne pensa? Era molto buono, era molto buono, è delizioso, però... Ora nel secondo tempo faremo assaggiare un'altra specialità toscana al signor Lacchi e poi vi informeremo sempre su Rai News. Salute! Scusi, Sor Lacchi, allora dopo la seconda specialità, come è andata? Tutto bene? Sì è andato bene, le toscanese le mangio bene e... Tutto è andato bene, sì 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 sì, grazie. A presto. Sì, non c'erava niente altro e andava più meglio. Bene, buonanotte a tutte, riverci. Lo faccio in merda, dico qualcosa. Qualcosa? Ciao, buonasera. Qui ci vuole un panoramico. No, ma mi parola che è vicinato. Ma è molto scuro, guardi qua, adesso non c'è luce. Qui ci vuole uno strunzo, guardarlo. Oh, un po' di luce con la macchina per illuminare lo strunzo, ecco. No, no, no. non 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 è proprio dass è questo è quello che dice ma è che un po' di polвер è un po' di polvere andiamo qui la nostra vita qui ti abbiano i aralga e di tuto una festia quei impagna è l'ora che ti prego senti tutti i l'izzarta e poi era di andare come c'è già E' un po' c'è la carta per dire come... Fuori le ganci! Le ganci! Ancora fuori le ganci! Fuori le ganci! E' un po' c'è un te che tu lanci! Tommaso Sanzucci ha la volo i gatti su uomini! Una cortezza che i dati dei miei foli! Dov'hi do' i gatti su uomini! Dov'hi do' i gatti su uomini! Grande ricordo! La ricorda dal mio suono! Il primo prossimo, è quella per la prima! Ciò 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 ciò! Ciò ciò! C'è la mia google! Esotriata! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.